Il Grand Canyon è un fenomeno naturale che suscita ammirazione per la sua impressionante bellezza, ma allo stesso tempo racchiude un enigma che ci incuriosisce profondamente. Questo luogo ha una qualità speciale, una sensazione di mistero che ci porta a chiederci quali segreti si nascondono dietro le sue imponenti mura. Un recente studio, condotto da un team di esperti, ha approfondito le profondità del Grand Canyon, portando alla luce reperti destinati a rimodellare la nostra comprensione di questo punto di riferimento, iconico e della sua importanza storica. Cosa hanno scoperto esattamente e quali sono le implicazioni che ha per la narrativa del Grand Canyon? Queste sono domande che verranno affrontate mentre approfondiamo le sorprendenti rivelazioni scoperte dagli scienziati, durante la loro esplorazione di questa meraviglia naturale. Numero 1. Per secoli, il Grand Canyon ha avuto un significato sacro per varie tribù di nativi americani. Gli Avassupai, che risiedono nella regione da generazioni, lo considerano un portale per il Paradiso o per gli Inferi. Per loro il Paradiso rappresenta uno stato di eterna beatitudine e di perfetta armonia con la natura, mentre gli Inferi sono un luogo di sofferenza e punizione riservato ai malvagi. Secondo il loro sistema di credenze, le anime dei defunti devono attraversare il Canyon nel loro viaggio verso la loro destinazione finale. Questo luogo ha una dimensione che trascende quella fisica per queste tribù, costituisce un luogo spirituale dove il passato e il presente si intrecciano. Le particolarità geologiche e le viste spettacolari del Canyon giocano un ruolo fondamentale nelle loro credenze e tradizioni, plasmando la loro identità culturale. Numero 2. La cittadella sotterranea. L'esploratore ossessionato dal Canyon G. E. Kinkaid ha fatto un ultimo giro in barca lungo il fiume Colorado prima, che fosse chiuso ai visitatori. Ha individuato strani punti nella formazione dei sedimenti e ha deciso di indagare. Fermò la barca e si avventurò a piedi, senza una strada libera. Ben presto fece una scoperta sorprendente, dei gradini scavati nella roccia che conducevano ad un ingresso artificiale. La cosa sorprendente era che il passaggio nascosto era coperto di geroglifici dell'antico Egitto, del Grand Canyon, tra tutti i posti. Incuriosito, Kinkaid entrò con la sua torcia e si rese conto che il tunnel si estendeva in lontananza, offrendo un'opportunità di scoperta senza precedenti. Man mano che il passaggio procedeva, Kinkaid rimase sempre più sorpreso. Trovò intricati intagli, manufatti e tesori dei secoli passati. Era come se fosse tornato indietro nel tempo. Scoprì un'antica città sotterranea rimasta nascosta per molto tempo. Affascinato da questa scoperta, era determinato a svelarne tutti i misteri. Joe Rogan ne ha recentemente parlato nel suo podcast. Molto prima che si sapesse dell'esistenza del Grand Canyon, c'erano persone che vivevano proprio sotto di esso. Kinkaid aveva scoperto un'intera città sotterranea. Il passaggio principale era ampio, con stanze che raggiungevano dimensioni impressionanti, ma la cosa più sorprendente era lo spessore delle pareti, un'impresa di ingegneria che sfidava la comprensione. Non riuscivo a capire come potesse essere stata costruita una cosa del genere. Mentre continuava ad esplorare, Kinkaid trovò fienili con conchiglie e semi, aree e cucine e una grande sala da pranzo nella città sotterranea. Ma la cosa più sorprendente era il design e le dimensioni. Le stanze erano enormi, circa 30x40 piedi quadrati, con i soffitti convergenti al centro. E la cosa più sorprendente, le pareti erano spesse tre piedi e sei pollici, sfidando la comprensione dell'epoca in cui fu costruita. Inoltre, Kinkaid scoprì manufatti insoliti, come strumenti di rame metallico, una tecnologia che non avrebbe dovuto esistere in quella zona in quel momento storico. Affascinato dalla sua scoperta, Kinkaid la chiamò la cittadella e chiese supporto finanziario e logistico allo Smithsonian. Professore S.A. La Giordania è arrivata con un team di 40 scienziati e ricercatori per assistere nell'esplorazione e negli scavi. Si scoprì presto che la città sotterranea aveva una disposizione pianificata e simmetrica, non solo un insieme casuale di stanze e tunnel. Era una città con uno scopo chiaro. La cittadella era abitata da una civiltà avanzata che visseli per centinaia, forse migliaia di anni. Erano molto più sofisticati delle tribù native della zona. Alcuni scienziati ritengono che potrebbero provenire dall'Egitto o dall'Asia a causa dei manufatti avanzati trovati. Nella cittadella, il che suggerisce che si trattasse di una caserma di guerrieri. Dopo la loro sorprendente scoperta alla cittadella, Kinkaid e il professor Jordan cercarono ulteriore sostegno allo Smithsonian Institution per continuare la loro ricerca. La loro richiesta venne per ore spinta e, subito dopo, entrambi scomparvero senza lasciare traccia. Il governo è intervenuto e ha vietato l'accesso all'area, sollevando sospetti su possibili insabbiamenti. Nel 1909, l'Arizona Gazette pubblicò una teoria scioccante che scosse il mondo dell'archeologia. Secondo l'articolo, era possibile che gli egiziani avessero attraversato l'Oceano Pacifico e si fossero stabiliti nei canyon del Grand Canyon. Le prove rinvenute apparentemente dimostravano che una misteriosa grotta che potrebbe trovarsi in Egitto risaliva, ai tempi di Ramses. Questa teoria ha suscitato molta attenzione, ma subito dopo essersi diffusa è semplicemente scomparsa. Si è detto che nulla di tutto ciò era realmente accaduto e l'articolo non è stato trovato da nessuna parte. Numero 3. 313 milioni di anni fa, un grande rettile lasciò delle impronte su una duna del Grand Canyon che si conservarono poi nel tempo. Nel 2016, il professore di geologia Adam Keele e i suoi studenti hanno scoperto queste impronte sorprendentemente conservate. Sul Bright Angel Trail. Keele li ha fotografati e li ha condivisi con il geologo Steve Rowland. Dopo averli esaminati, Rowland stabilì che l'animale aveva le dimensioni di un moderno coccodrillo, e le tracce suggeriscono che fossero state lasciate da due creature probabilmente della stessa specie con un intervallo. Di tempo tra loro. La scoperta di impronte nella formazione Manac del Grand Canyon ha rivelato informazioni cruciali sull'evoluzione. Degli amnioti sebbene si pensasse che questi animali avessero bisogno di acqua per vivere. Le impronte in una duna suggeriscono che si siano adattati alla Terra presto nella loro evoluzione. Inoltre, Rowland ha mostrato un modello di movimento unico e ha indicato che questo comportamento si è evoluto molto prima di, quanto stimato in precedenza. Questa scoperta, considerata la più antica impronta vertebrale del Grand Canyon, ha catturato l'interesse scientifico per le sue conoscenze sulla storia evolutiva degli animali terrestri. Numero 4 La formazione del Grand Canyon Il Grand Canyon è una meraviglia naturale la cui formazione ha richiesto milioni di anni di erosione e attività geologica. Circa 5 milioni di anni fa, nel nord dell'Arizona, fu creato un lago da una diga naturale piena di sedimenti. Quando il lago fu prosciugato, il fiume Colorado iniziò a erodere la roccia, creando il canyon che conosciamo oggi. L'erosione, insieme al vento e all'acqua, ha modellato questo splendido paesaggio pieno di canyon, burroni e altre caratteristiche uniche. Questo processo ha creato un luogo di eccezionale bellezza e complessità, dimostrando la potenza della natura in tutto il suo splendore, molto prima che l'uomo fosse presente nell'area. Numero 5 Circa 4 mila anni fa, gli esseri umani preistorici abitavano il Grand Canyon, cacciando e vivendo in gruppi. Prove della loro presenza, compresse figurine di ramoscelli spezzati, sono state trovate nelle grotte del canyon e vicino a Flagstaff, in Arizona. Negli anni 30, questi antichi manufatti furono datati utilizzando il radiocarbonio e si stima che abbiano più di 4 mila anni. La scoperta ha messo in discussione le idee precedenti sull'attività umana nel canyon, indicando la presenza umana più di 4 mila anni fa. Si pensa che le figurine potessero far parte di rituali e la loro associazione con grandi resti di animali nelle. Caverne suggerisce che rappresentassero gli ingressi agli inferi. Queste figurine dimostrano l'abilità artistica degli antichi esseri umani e possono essere ulteriormente. Apprezzate presso l'Arizona State Museum. Numero 6. Durante l'ultima era glaciale, il Grand Canyon era un ambiente più fresco e umido. Sede dell'estinto bradipo terrestre di Sasta. Nel 1936, specialisti come Mark Runner, Rington e Hard Shank indagarono sulla rampar cave del Grand Canyon, nota per i suoi fossili di bradipo terrestre. Da allora la grotta ha rivelato numerosi resti ed escrementi dell'animale. Nel 1942, Reiming e Cog del Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian condussero uno scavo fornendo preziose informazioni sull'anatomia del bradipo terrestre. Dai reperti nella grotta furono mostrati resti di bradipi terrestri delle dimensioni di un orso, che indicano il loro utilizzo per millenni. Sebbene si pensasse che la sua estinzione fosse dovuta ai cambiamenti climatici, le prove indicano che fu dovuta alla caccia umana, evidenziando l'impatto umano sull'ambiente. Il Grand Canyon conserva questi resti ricordando quando questi animali erano comuni. La loro dieta erbivora è stata confermata dagli escrementi, che ne spiegano le caratteristiche. Numero 7. A partire dagli anni 50, nel Grand Canyon è stato scoperto l'uranio, che ha causato danni dovuti all'attività mineraria. L'uranio fu trovato per la prima volta vicino al bordo meridionale del canyon presso la miniera di rame di Orphan, sebbene alcune aree siano state designate come proprietà privata dal 1906. L'uranio è stato trovato in altre zone dell'Arizona dove le rocce sono crollate, formando camini di breccia. Dopo la scoperta dell'uranio, gruppi indigeni, governi locali e ambientalisti hanno combattuto contro l'estrazione mineraria vicino al Grand Canyon, sostenendo i danni all'ecosistema e al patrimonio culturale. Nel 2012 è stato stabilito un divieto ventennale di attività minerarie in alcune aree. Sebbene ci siano 600 rivendicazioni minerarie vicino al Grand Canyon, l'opposizione persiste, piché la comunità indigena vede l'area come la propria casa e teme gli impatti ambientali e culturali a lungo termine. Numero 8 Nel 1927, Walter T. Scoprì le caverne del Grand Canyon mentre cercava l'oro vicino a Peach Springs. Queste grandi caverne secche divennero un'attrazione importante nel Grand Canyon. Sebbene non trovasse oro, trasformò la grotta in un'attrazione turistica e molti visitatori pagarono per esplorare e vedere. Raffigurazioni come quella di un uomo delle caverne. La storia delle Grand Canyon Caverns ha una svolta tragica. Piché nel 1917 e 1918 due fratelli morirono lì a causa di una. Tempesta di neve mentre cercavano legna da ardere. Furono ritrovati nel 1935 e nel 1962 fu creato un nuovo. Ingresso con ascensore. Oggi, queste caverne sono un'attrazione popolare con servizi come hotel, campeggi e ristoranti per i visitatori del Grand Canyon. Numero 9 Il Grand Canyon ospita numerosi serpenti, ma solo uno è velenoso, il Serpente Assonagli. Tra le varietà presenti, come il Serpente Moabi Verde e il Serpente Assonagli Maculato, spicca il Serpente Assonagli Rosa, esclusivo di questa zona. La sua tonalità rosata gli permette di mimetizzarsi nei canyon, evitando predatori e prede. Sebbene sembrino docili e attacchino raramente senza provocazione. Questi serpenti misurano tra 16 e 54 pollici e hanno un morso potente. Gli scienziati hanno collegato il Serpente Assonagli Rosa ad altre specie velenose come il Serpente Assonagli. Diamondback occidentale è saggio mantenere le distanze da questi serpenti in natura a causa del loro veleno. Numero 10 Una nuova specie di insetti è stata scoperta in una grotta sul bordo nord del Grand Canyon, sorprendendo gli scienziati. Questa creatura, chiamata pseudoscorpione, somiglia ad uno scorpione ma con differenze come la mancanza di pungiglione e la perdita degli occhi dovuta alla sua evoluzione nell'oscurità totale. Hanson della Northern Arizona University ha identificato esemplari unici tra il 2005 e il 2007, denominati Geopipria e Tuberkernes. Questi pseudoscorpioni misurano circa 0,12 pollici e si nutrono di piccoli invertebrati. Sorprendentemente, hanno un comportamento sociale unico, usano le chele per fare l'autostop, si aggrappano ad altri animali per percorrere lunghe distanze e disperdono i loro geni in modo efficiente. Numero 11 E ora viaggeremo in Asia più precisamente fino al fiume Efrate. I fiumi che attraversano il nostro pianeta sono testimoni silenziosi della storia dell'umanità. Uno di questi fiumi iconici, l'Efrate, è stato teatro di innumerevoli storie nel corso dei secoli. Oggi approfondiremo la sua affascinante storia. In questo video scopriremo tutti i segreti e le meraviglie che il fiume Efrate ha da offrirci. Ma prima di intraprendere questo entusiasmante viaggio, ti invitiamo a mostrarci il tuo sostegno mettendo mi piace a questo video. Iniziamo! Il fiume Efrate si trova a ovest dei due grandi fiumi che definiscono la Mesopotamia, insieme al fiume Tigri. Insieme! Costituiscono un immenso sistema fluviale in una regione di paludi salmastre alluvionali nel Medio Oriente. Il fiume Efrate si trova in Asia ed ha una lunghezza di circa 2.800 chilometri, dalla sorgente in Turchia alla foce in Iraq, attraversando parte della Siria. Il fiume scorre in direzione sud-est fino a raggiungere l'Iraq, a nord di Bassora, dove si unisce al Tigri per formare il fiume Shata al Arab, che infine sfocia nel Golfo Persico. Nel corso della storia è stato conosciuto come il loro blu ed è stato generatore di vita per migliaia di anni ai suoi margini. Ci sono però prese di coscienza che oggi praticamente nessuno ricorda. Dalla sua sorgente in Turchia, il fiume ha visto la sua portata diminuire nel corso degli anni. Insieme al fiume Efrate, il suo principale affluente è stato il luogo in cui si sono sviluppati i popoli arabi, musulmani, cristiani, kurdi, turcmeni ed ebrei. I dati più antichi sulle civiltà provengono da questa regione. La vita economica del bacino del fiume Efrate rimane in gran parte dipendente dalle acque dei fiumi. Sebbene anche i proventi petroliferi abbiano svolto un ruolo dominante in Iraq, la moderna tecnologia di controllo dell'acqua ha ridotto gli effetti devastanti del ciclo delle inondazioni e della siccità. Tuttavia, ciò ha portato al prosciugamento delle paludi e alla diminuzione del rifornimento naturale di nutrienti del suolo. In termini politici, c'è una grande controversia sull'uso dell'acqua e sul potenziale conflitto nella regione. È sempre latente di che la Turchia si trova più vicino alle sorgenti di entrambi i corsi d'acqua, il che le conferisce un chiaro vantaggio geografico. Il progetto dell'Anatolia sudorientale, che prevede la costruzione di dighe e tunnel di deviazione dell'acqua, ha causato costernazione tra i paesi rivieraschi a valle dal 1960. Picche la maggior parte dell'acqua nella regione proviene dalla Turchia. Ankara ritiene che solo lei abbia il potere di determinare come viene allocata la risorsa. D'altro canto, l'Iraq sostiene di avere diritti storici su una porzione garantita dell'acqua del bacino. L'asimmetria di potere tra gli stati regionali ha portato a visioni divergenti difficili da conciliare pacificamente. Tra il 1975 e il 1991 le tre sponde del fiume si sono minacciate militarmente in tre diverse occasioni e le trattative sulla distribuzione dell'acqua ne sono state influenzate. Il conflitto è stato finora disinnescato grazie agli sforzi dei mediatori esterni. In passato, l'Arabia Saudita e l'Unione Sovietica sono intervenute e le tensioni sono state ridotte prima che degenerassero in conflitto. Tuttavia, attualmente non sembrano esserci potenze internazionali o regionali disposte o in grado di incoraggiare gli stati, dipendenti del bacino del tigri e delle frate a risolvere le questioni legate all'acqua trasfrontaliera. Tra gli animali che troviamo nella zona del fiume e frate ci sono i maiali selvatici, molto comuni nelle paludi e che si sono diffusi nelle piantagioni di eucalipto appena piantate in altre parti della pianura alluvionale. Inoltre, sciacalli, lontre e manguste si trovano lungo i fiumi nel sud dell'Irak. Inoltre, un'ampia varietà di gatti della giungla indiana vive ancora in remoti boschetti di Tamerici. I leoni furono avvistati per l'ultima volta lungo il tigri nel 1926. Volpi, lupi e gazzelle sono comuni nella pianura e alcuni di questi animali si estendono fino all'Anatolia. Gli animali più piccoli includono specie di gerbilli, lepri, toporagni, pipistrelli, ricci, lontre di fiume e la talpa di buc. Quest'ultimo copre l'ingresso della tana sulla riva con un cumulo di argilla. Gli uccelli che popolano la zona includono uccelli canori, gazze, corvi, guffi e una varietà di falchi, aquile e avvoltoi. In primavera e in autunno numerosi uccelli migratori tra Europa e Asia, pellicani, cicogne e diversi tipi di oche volano lungo i corsi dei fiumi e le paludi forniscono nutrimento ad alcune specie migratorie. A causa dell'inquinamento, della cattiva gestione e della siccità, il fiume sta vivendo un processo di prosciugamento che ne sta portando alla riduzione. Sei delle dighe costruite sulle sue acque contribuiscono al rischio di impoverire il flusso del fiume in tutta la regione. La colpa di questa situazione ricade su Iraq, Turchia e Siria, e ad un certo punto si prevede che il flusso sarà la metà di quello attuale. Questa siccità ha causato grandi devastazioni lungo le sue acque. I suoi canali sono poco profondi e la fauna sta morendo. Ciò, sommato all'aumento della frequenza dei periodi di siccità, fa sì che le sue acque diminuiscano sempre di più. Dal punto di vista biblico sta scritto che il fiume si prosciugherà e darà luogo alla nascita di una nuova città, come menzionato nell'Apocalisse. Alcune curiosità sul fiume Ofrate sono le seguenti. Secondo gli esperti, si ritiene che sotto il fiume Ofrate sia stato costruito un tunnel che collegava segretamente i palazzi reali su entrambi i lati del fiume. Il fiume Ofrate è menzionato numerose volte sia nella Bibbia ebraica che in quella cristiana, nonché negli avvertimenti del profeta Maometto. Nei tempi antichi, la valle del fiume era altamente irrigata e ospitava molte grandi città sulle sue sponde. Rimangono ancora le rovine di alcune di queste comunità. L'Ofrate segna il confine nord-orientale della terra che Dio aveva promesso ad Abramo. Nell'Islam, alcune divinazioni del profeta Maometto suggeriscono che l'Ofrate si prosciugherà, rivelando tesori sconosciuti che saranno causa di conflitti e guerre. Il fiume Ofrate, insieme al Tigri e al Nilo, è una delle principali fonti di vita del Medio Oriente. Grazie a questo fiume molte civiltà fin dall'antichità hanno potuto svilupparsi sfruttando l'acqua che scorre attraverso il suo canale. È un peccato che, a causa della cattiva gestione e della siccità, l'Ofrate stia subendo un declino. È soffocato dalle politiche idriche dei vicini dell'Irak, Turchia e Siria, così come da due anni di siccità e da anni di abuso da parte dell'Irak e dei suoi agricoltori. Il fiume è ora significativamente più piccolo di quanto fosse solo pochi anni fa e alcuni funzionari temono che potrebbe ridursi alla metà delle sue dimensioni attuali. La brutale siccità che da anni colpisce i corsi dei fiumi Tigri e Deufrate sta permettendo ad alcuni tesori archeologici di emergere in superficie. I bacini di questi fiumi che attraversano l'Irak e la Siria sono aree fortemente colpite dai cambiamenti climatici. La drammatica mancanza di pioggia ha generato una marcata e persistente siccità in questa regione del Medio Oriente. La grande diminuzione delle acque dei fiumi e dei bacini artificiali ha permesso la riemersione di numerosi tesori archeologici. Recentemente, la diminuzione della portata del fiume Efrate ha portato alla luce diversi siti archeologici risalenti a 11.000 anni fa nel nord della Siria. Questi siti erano sotto le acque del bacino idrico di Al-Azad, costruiti all'inizio degli anni 70. Sono stati trovati edifici residenziali e amministrativi, un sito di fusione dei metalli, un'imponente fortificazione con mura larghe fino a 6 metri e torri, oltre a un monumento un edificio di stoccaggio multipiano e un complesso industriale. Gli archeologi hanno lavorato sotto pressione per scavare e documentare rapidamente almeno una parte di questa città prima che fosse nuovamente sommersa. Sono rimasti scioccati dal buono stato di conservazione dei muri di mattoni di fango essiccati al sole, che sono rimasti sott'acqua per più di 40 anni. Questo perché la città fu distrutta da un terremoto intorno al 1350 anno corrente, durante il quale le parti superiori delle mura crollarono seppellendo gli edifici. Hanno anche trovato cinque vasi di ceramica contenenti un archivio di oltre 100 tavolette uniformi, conosciute come un tipo di lettere fatte di argilla cruda del periodo Medio Assiro. Dopo quel terremoto, alcuni sono ancora nelle loro buste e in buone condizioni. I ricercatori sperano che questa scoperta possa fornire informazioni sulla fine della città del periodo Mitanni e, sull'inizio del dominio Assiro nella regione. L'Ufratere continua ad essere uno dei pilastri di molti popoli del Medio Oriente. Le sue acque rendono fertili i terreni vicini e adatti all'agricoltura, fornendo cibo, soprattutto cereali come il grano e l'orzo, oltre ad alberi come il fico. L'acqua dolce è necessaria per bere, lavarsi, cucinare e altre attività di base, oltre ad essere una fonte di pesce. Per tutti questi motivi il fiume divenne fin dall'antichità una via di commercio. Anche se attualmente le sue acque non sono adatte al passaggio di grandi navi, è navigabile fino alla città di Itinirak. Sicuramente, il fiume Enfrate è una delle risorse più impressionanti di tutte. Cosa ne pensi di questo video? Iscriviti per vedere altri video come questo. Arrivederci alla prossima!